musica bentornati sul canale di Axios00 bentornati in un nuovo episodio di Sonic Mania siamo con Sonic e Tails e l'anteprima di livello che sto vedendo non mi piace per niente, nel senso che prevedo tragedia a non finire, comunque iniziamo subito vediamo un po' cos'era questo flying battery oh mamma mia sto flying battery, allora prima di tutto alle... ma che figata, no 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 questa la devo rivedere perché è partito lui e non io fatemi ripartire Tails, dannato Tails, vai così perfetto ce l'ho fatta, alla buon'ora no che è? che mi sta succedendo povero Sonic allora perfetto poi prendiamoci sti... no 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 torna, ma cosa è questa cosa? bellissimo dai no, potevo rimanerci aggrappato, forse era meglio intanto distruggiamo tutto anche noi stessi, il problema è quello prendiamo più anelli disponibili oh... no 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 maledetto Sonic allora, non facciamo così dannazione, prendiamo questo coso e... dove diamine devo andare da qui? devo tornare indietro? oppure sbattere... ce la farò? oh... e che diamine? allora... no niente ok, non serve a niente perfetto, mi sa che devo rimanere aggrappato qui e scendere giù yes mamma mia che cattiveria sto posto poi lunghi oh... qui si scende yes ma allora prima io volevo tornare un attimo indietro perchè mi son lasciato la parte di la come si può vedere vai Sonic no! dannazione! dai che qui c'è qualcosa no? no mi sa di no? ah... allora... proviamo a fare così allora e... e... non si va da nessuna parte quindi benissimo riprocediamo verso destra e... distruggiamo questo torna su dannato! ok... aspe... mmm... dannatis perfetto andata bene non si sa come ma è andata bene viene... no! volevo colpirti in testa! allora... quello mi fa partire a velocità ipersonica quindi... oh... no! mi sa che devo proprio provare ad andare di la forse uh... potenziamento! tra l'altro mi avete detto prova a salire... a saltare due volte quando hai potenziamenti in effetti si fanno delle figate ok... grazie mille per tutti i commenti e per tutti i consigli che mi state dando effettivamente siete veramente fanta... fantastici fantastici donnazione quanto c'è mancato no! a parte gli scherzi grazie davvero di cuore perchè me ne avete dette veramente tantissime me ne avete dati tantissimi consigli e tutto ciò è veramente veramente molto bello eh... no! Sonic! non partire così a caso! aspetta... volevo cercare di capire come fare ad andare laggiù sotto ma... evidentemente questa non è la zona giusta però potrei fare tipo... non tipo così! pensavo mi rimbalzasse in alto non che andasse per... per funghi! a destra al mondo di mario tra un po' ci rivediamo quando torno lì che credo non ci voglia neanche tanto a sto punto mamma mia sonic frena frena dannazione l'ho presa a palla troppo a palla allora evitiamo di... evitiamo dicevo di rimanerci fregati scusate mi è andata mia un po' la voce oh... qui ho occhio devo fare una cosa del genere so che c'era una parte di sotto ma non ho idea di come fare ad arrivarci e ora checkpoint più zona bonus benissimo in questo modo vi avete rispiegato anche nei commenti come fare un po' a fare queste zone io ovviamente non ce la farò mai però ci provo perché è giusto provarci le soddisfazioni del provarci preso ok poi qui mamma mia questa... mi vedo male ma non troppo grandi in questa maniera ora oh... che commediamine posso fare io spero non vi stia venendo il mal di mare perché a me sta venendo quindi va bene così oh... quante ce ne saranno da prendere di questi cosi esattamente cinqu... ah c'è lassù il punto ok quindi non ci riuscirò no mai no ok sono 35 rilassati perfetto è andata bene poi entriamo qui dentro mi sembra a me o sonics o sonic non sonics ma è sonicale almeno il nome di là giusto sta velocizzando no no ero fine ero fine dannazione potevamo vedere che succedeva no dannazione questo è stata peccato è stato un peccato veramente un peccato no aspetta sonic torna indietro perché voglio vedere che c'è qua giù di sotto perché vedo che c'è roba ho visto che c'è roba intravisto diamine se c'è roba oddio ci sono anelli però però la soddisfazione intrinseca di arrivare fin qui e questo potenziamento che diamine è esattamente è un altro di quelli doppi io ho dato potenza in teoria a questa cosa no adesso ma non mi è cambiato niente mamma mia la cattiveria immane ma ah no ok pensavo di essere ripartito dall'inizio ho detto anche no possibilmente ho ripreso il potenziamento bene e praticamente con questo potenziamento io mi aggrappo alle varie pareti e ciò è un potrebbe diventare un problema in effetti una cosa del genere quello non si prende questo va saltato al 90% e questi si riaprono bello 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 soddisfacente era soddisfacente tutto ciò era molto soddisfacente ale anche no ale anche no passa di qua che è meglio spegniamo questo poi cerchiamo di non farci prendere da questo carro malefico dopodichè penso ci sia da saltare quassù in teoria yes grandi trovato la strada giusta cos'è sta cosa ma è spettacolare sta cosa ma perchè io devo fare una cosa del genere ma è bellissimo ok poi ritorniamo di qua e eeeh ma se io torno di qua che c'è ci denti a me quando ci ho provato maledizione stiamo andando malino ma va bene lo stesso va bene lo stesso dicevo il problema è qui dove diamo dove diamine devo andare dannazione mi sono fatto quindi anche le pale nelle ali che lì fanno danno mh interessante bene a s... anzi male a sapersi direi più che bene a sapersi io a questo punto proverei a passare allora di qua effettivamente ci si può anche passare tails potresti fare un qualcosa tipo tipo via mia riprendere tails tails no lassù vai ok no provaci tails provaci provo a portarmi provo così tails vai 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 tails vai 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 roba tails mitico lui perfetto ora oh io dovrei arrivare fin lassù in via del tutto teorica e farmi uccidere in questo modo dove diamine c'è da andare qui dannazione che non lo riesca a capire proviamo a scendere di sotto forse ok di sotto effettivamente si va da qualche parte il punto è che volevo comunque riprendere qualche anellino che non si sa mai ora prima che quella a fare ritorni su o almeno sembrava volesse tornare su a quanto pare no invece lo sapevo l'avevo visto prima ma ho detto no non rifunziona magari non c'è dannazione mi sono fatto fregare in questo modo ok devo stare iniziare a stare veramente attento adesso perchè le vite iniziano a finire e questo è un problema ah ma si andava di quassù ecco come bisognava fare per arrivare fin qui bisognava arrivarci con il potenziamento il problema è che io ora volevo staccare questo perfetto alla grande e non riuscivo a capire come staccarmi di lì il che poteva essere effettivamente un grosso guaio però almeno qui ci siamo tornati bene ora ho con questo io dovrei potevo potevo passare di sotto è andata un po' male vai sonic gronde checkpoint checkpoint mo vieni vediamo se stavolta ce la facciamo dai ci vediamo verso la fine appena forse le ho quasi prese tutte via del tutto teorica non succederà mai ma nel caso succeda ci rivediamo alla fine sono rimasto incastrato non c'è una via d'uscita quindi mi tocca per forza abbandonare ok quindi c'è anche quella però non era fatta un granché bene perché non si riusciva a capire dove bisognava passare esattamente lì non mi è piaciuta un granché mi è sembrato di vedere la piattaforma che non ho preso però non so quanto effettivamente fosse fattibile la cosa ok quindi sonic mettiamoci un attimo d'accordo come come facciamo ad andare no di qua mi sa che non ci si va quindi vediamo un po' se riesco a passare da questa parte forse indenne no però l'importante è aver comunque ripreso un bel po' di roba tra l'altro c'ho anche l'elettricità adesso no che è sta a fare l'invulnerabilità cos'è si è tipo no cos'è aspetta un po' che dai sonic bravissimo così sonic grande no troppo troppo allora sonic con calma e per piacere vediamo un po' se riesco a fare un qualcosa di buono vai sonic adesso niente non riesco oh ci sono rimasto lì è stato bellissimo questo allora fatemi vedere un po' se riesco a montare su quella piattaforma ok bene così passiamo da un'altra parte che io non ho idea qui dove stiamo andando ma abbiamo sicuramente preso un'altra strada stavolta diversa da quella precedente su questo non ci piove no sonic sonic io e te c'è da fare un discorsino perchè io non capisco bene alle volte come si comporta il nostro sonic sonic sali per l'amore del cielo ok mmm no devo andare prima qui è quello non saprei come come andare a prenderlo francamente è un po' un rischio lassù ci si può andare sembra di si vediamo un po' ragazzi spirito sportivo tra l'altro c'è anche un anello lì guardiamo un po' di andare a prenderli va quegli anellini che fanno comodo ok poi si sale su così e altri anelli che sono gli anelli blu e poi di qui però non ci si passa ah c'è l'interruttore qua ok perfetto non l'avevo visto scusate chiedo chiedo venia no ridammi quel dannatissimo anello che è importantissimo è fondamentale per la sopravvivenza del nostro sonic quindi vieni qui altro checkpoint stavolta non mi apre niente perchè ho meno di 25 anelli quindi ok qui devo tornare indietro ho visto ci sono le rampe oh aspetta un attimo come funziona tails fai qualcosa vai vai che ce la facciamo dai tails tails da ne facesse una giusta anche il nostro tails eh ogni tanto vai che questa volta l'ho fatta giusta io bene poi lui oddio mio cosa non ho rischiato allora muoviti grande sonic perfetto poi proviamo a non morire lì quasi ci sono quasi morto ma perlomeno sono sopravvissuto e maledizione ho preso l'anello quella è una cosa che mi scoccia anche se ne ho 38 obbiettivamente obbiettivamente di anelli no basta ali smettila ok perfetto e quando mi ci intreccio è tremenda la situazione basta fare così quindi bisogna andare un po' con calma per piacere ah per piacere dicevo per sbaglio qui intanto abbiamo fatto la strada vista adesso bellissimo però quando fa questa accelerazione il nostro sonic è fenomenale e poi ci si muore e no è andata bene zitti 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 allora facciamo così qualcosa ho combinato penso anche di buono questi non si aprono quindi no sembra di no ok fanno solo un rimbalzo per ritornare via di qui mamma mia poi lunghi ok io non so se sto andando al contrario il che è molto probabile però qui c'è un'altra strada perciò usia no fammi tornare indietro che ho visto che qui c'è yes vieni qua ok catch the ufo spero almeno credo si grandi vediamo un po' se stavolta ce la facciamo dai se non faccio schifo come la scorsa volta perché ho giocato l'ho giocata veramente male la scorsa volta questa quindi vorrei cercare di fare un po' meglio tanto più o meno i percorsi mi sembrano sempre gli stessi oddio insomma proprio gli stessi no però comunque vediamo no non sono gli stessi ok perfetto questo è molto peggio di di quelle precedenti meno male ho ripreso un sacco di ehm monetozze almeno mi ha ridato un po' di vita diciamo di secondi di vita io ora li sto mancando tutti però ne ho ripresi 25 e basta ne avanzano perfetto ora volevo prendere quella su monete mancanti ma non ce l'ho fatta dovrei cercare di vedere dove è andato l'ufo perché ora non lo vedo più io non so più dove sta passando adesso per recuperarlo come si deve perché altrimenti lui mi frega tipo lui lì è passato scorciando mi sembra da qualche parte forse di lì no no donna azione ci hanno messo i buchi oh riuscirò mai a farne uno anche no dice anche no ma altrimenti non sarei io quindi benissimo così abbiamo fatto schifo anche stavolta ottimo in questo modo l'importante è che vi divertiate a vedere questi video almeno questo io spero sempre questo perché alla fine lo scopo per cui faccio video è farvi divertire quindi per quanto mi riguarda l'importante è che vi divertiate quella era preoccupante è come cosa come cosa ora ho capito anche perché ci sono questi per riuscire di qua ora mi torna il punto è che questo mi serve per cioè tecnicamente come faccio a tornare via di qui ma qui sopra ci si sta yes randi perfetto allora va bene allora è tutto ok quindi qui si monta sopra e poi si salta lunghi mamma mia rischio rischio tremendo ma è andata io direi che questa volta in questo episodio faremo solo questo video perché lo vedo molto lungo come episodio quindi cosa sta facendo ok io ti tolgo di mezzo nel frattempo sia mai che ti lascio vivo benissimo così ma devo utilizzare devo sfruttare quello per colpire poi cosa si forse si forse devo sfruttare questo per colpire poi no dannazione quello lassù dicevo vai bravo sonic almeno mi sono ripreso anche gli anelli è che devo muovermi perché questo affare si sta chiudendo sempre di più dannazione e io non riesco ad arrivare fin lì a colpirlo come si deve oh ce l'ho fatta ce l'ha fatta Tails grande Tails ogni tanto sei utile mi avete detto che se questo non lo faccio cadere prendo un sacco di punti Tails lasciami carina carina sta cosa mi è piaciuta mi è decisamente piaciuta ok ho apprezzato la situazione allora direi che con questo episodio ci salutiamo povero Sonic vai Sonic grande lui come ha fatto il prossimo no perché ripartiamo di qui così ok allora direi che ci salutiamo qui con questo episodio io vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social così mi aiutate a crescere come il canale se vi va lasciate un like al video solo se il video vi è piaciuto vi ricordo sempre se vi va di iscrivervi alle mie pagine facebook e twitter seguirmi su mivers instagram e telegram e aggiungermi agli amici di steam switch e playstation network e trovate tutto quello di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale un saluto ancora da Axios 00 e alla prossima ciao ciao ciao